Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese, film a caso, il film di oggi è Carlitos Way, cominciamo! Film di Brian De Palma con Al Pacino, Sean Penn e John Leguizamo del 1993. Carlito Brigante è un ex spacciatore portoricano che dopo grazie all'aiuto dell'avvocato Glenfield, essere uscito dal carcere, decide di uscire fuori dal giro, tentando di mettere da parte dei soldi. Nulla andrà come previsto. Un film da vedere più di una volta, perché ad una prima visione potrebbe risultare, seppur pieno di pregiato intrattenimento, già visto in alcuni punti addirittura banale, ma con una revisione ci si accorge come la narrazione si asturna nel riempire di saspensi di prodotto senza farla quasi mai esplodere, come l'approfondimento psicologico dei personaggi si è filtrato dalla perfezione formale che quasi fa scordare, insieme alla recitazione sontuosa da parte di tutto il cast, la non-originalità della trama che viene nascosta da tecniche narrative funzionali a far immedesimare in modo totale lo spettatore, incollato dal primo all'ultimo momento alla poltrona. Inizia la pellicola già con quella che poi sarà alla fine, da qui parte un lungo flashback che trasporta lo spettatore in il vivo degli eventi passati. Il film è molto abile a tenere un'atmosfera costantemente tesa che fa dimenticare agli spettatori come finisce il tutto. L'azione quando esplode, esplode in maniera rapida, frenetica, in pochi secondi si risolve il tutto, per poi ricominciare con la suspense, come se la violenza che scoppia nelle poche sequenze d'azione fosse una delle tante faccende che si sbrigano nel mondo criminale, dove in pochi secondi cadono corpi senza vita e dove si passa il resto del tempo in un'atmosfera carica di paura che dura molto di più delle sparatorie temute ed improvvise. Facciamo la conoscenza di Carlito Brigante, un ex gangster che cerca di redimersi e i continui dialoghi tra il protagonista e i suoi vecchi compagni mafiosi tengono su un meccanismo di suspense ingegnoso. Se il personaggio principale continua a dire di voler tirarsi fuori dalla criminalità, di risposta i suoi vecchi amici non ci credono e gli propongono lavori illegali di ogni tipo. Noi che vediamo la serietà e la convinzione del protagonista cominciamo a gridare allo schermo di non accettare le proposte ma dalle risate di schermo che gli vengono rivolte, capiamo come per lui sia difficile cambiare vita e questo ci crea ansia perché sta sempre per succedere quello che noi vorremmo non succedesse e che sappiamo porterà ad una conclusione amara. La voce narrante del protagonista ci confida al perché delle sue azioni e le emozioni che lui difficilmente mostra all'esterno e questo ci fa ancora di più affezionare al personaggio. La love story proposta ci cattura subito nel suo romanticismo esasperato e nel suo essere impossibile perché dal mondo in cui si rapporta con la donna amata capiamo subito che tale sentimento è filtrato dalla pura sincerità e ci ricorda la modalità con cui si rapporta con noi la voce narrante di cui ho già parlato. Il concetto di redenzione è un concetto che viene messo a dura prova durante lo svolgimento della pellicola e molti sono i personaggi che sono consapevoli dell'impossibilità di essa compresa la donna di Carlito che comprende a malincuore quanto il suo sogno sia lontano dalla realtà tale il protagonista convinto di poter salvare. Molti momenti che confermano la dualità del personaggio principale come nella scena in cui lui minaccia il nemico con una pistola solo in apparenza carica che simbolicamente potrebbe dimostrare come si è in realtà una persona buona costretta dalle situazioni a impugnare le armi. Bellissima la scelta di costruire l'attenzione accompagnando il tutto con musiche da discoteca che creano un contrasto notevole che si accentua quando la colonna sonora alza o diminuisce il suo volume. La scena finale è d'antologia. La preparazione ad essa è magistrale per come crea nello spettatore un senso di attesa che si prolunga per diversi minuti che culmineranno in una serie di pericoli che arriveranno in successione. Dopo aver superato un ostacolo ecco che ne viene fuori un altro in un crescendo che determina volta per volta un sospiro di sollievo nello spettatore che si trasformerà purtroppo in una smorfia di dolore e di sconfitta nel glaciale finale. La fotografia sposa le sensazioni dei personaggi forse a volte in modo troppo evidente cosa che però non nuoce alla immedesimazione che anzi cresce sempre di più. De Palma qui firma uno dei suoi lavori migliori e conferma la sua abilità nell'architettare sparatorie e scene d'azione creative. Un cult imperdibile e indimenticabile. Grazie. Grazie.